il 40 da metro dobbiamo andare per tornare sulla sua traccia dobbiamo andare per 120 metri circa 130 per levante andiamo? 50 metri per 200 e 50 245, 6 veering, altri 50 metri 60 città, 1.2 60 onde con altezza compresa tra i 10 e i 18 metri non so Grazie a tutti.